Ciao, sono Alessandro Perilli e ho voluto creare questo video per un motivo molto semplice, perché voglio darti un'opportunità. Vedi, ogni giorno tantissime persone mi contattano in privato chiedendomi l'opportunità di poter avere una mia consulenza, di poter avere un incontro con me, di poterci sentire al telefono addirittura, e quello che ho risposto fino ad oggi è stato sempre un'unica e diretta risposta no. Perché ho detto no fino ad oggi? Perché ho voluto concentrare le mie energie semplicemente su quelli che sono i miei clienti abituali e soprattutto gli imprenditori al quale ho dato il mio supporto, oltre ai miei studenti da quando ho lanciato il corso online di Aste Giudiziari e Strategi. Quindi mi sono sempre concentrato nell'aiutare i miei studenti e non ho mai dato l'opportunità al di fuori di chiedere le consulenze. Però adesso voglio darti un'opportunità. Ho creato questa pagina con il quale puoi metterti in lista prenotando la consulenza con me via Skype o dal vivo, però ho deciso di limitare questa opportunità solamente a due persone a settimana. Perché due persone a settimana? Perché ho bisogno di concentrare le energie e le risorse di tempo anche per portare dei risultati. Perché la consulenza che si ha a Skype o dal vivo non è una consulenza con il quale io lavoro con te attraverso la motivazione. Ma qui con le Aste Giudiziari è un settore che devo aiutarti a portare dei risultati per raggiungere il tuo obiettivo. Che tu sia un imprenditore, quindi che vuoi fare un investimento per la tua azienda, per la tua attività. Se sei un libro professionista o una persona che vuole imparare come poter fare consulenza, diventare un consulente per aiutare altre persone lì fuori a partecipare alle Aste Giudiziarie, o se sei una persona normale che vuole semplicemente risparmiare acquistando le Aste Giudiziarie, beh tutto questo non fa assolutamente differenza. Perché non fa differenza? Perché a prescindere da quello che è il tuo obiettivo in queste tre possibilità che ti ho appena detto, beh il tempo che io ti vado a dedicare, l'energia e l'esperienza che ti vado a dedicare sono importanti perché ti devo portare da A a B, da B a C e così via per poterti dare un risultato concreto e tangibile. Quindi l'opportunità di dare solamente a due persone a settimana mettendosi in lista e prenotandoti mi sembra più che ragionevole e non voglio assolutamente aprire a più persone questa opportunità semplicemente per fare più consulenze e poi non essere in grado di dare la massima qualità a te che poi deciderai di metterti in lista. Vedi, la mia consulenza dal vivo per poter aiutare fino ad oggi gli imprenditori così come faccio ancora ad oggi parte da un minimo di 1500 euro. Quindi per stilare quello che poi è il contratto, quello che serve per presentare in busta al delegato alla vendita e accompagnare direttamente passo dopo passo l'imprenditore, la persona a partecipare, a vincere all'asta. Questo è il mio prezzo. È da 1500 euro in su perché poi dipende sempre da quello che poi è il bene con il quale andiamo a lavorare. Più è complicato più ovviamente il prezzo sale in base all'investimento che tu decidi di fare. I miei studenti, i miei clienti solo per la consulenza, quindi per avere delle informazioni invece, non per avere la stesura di quello che è tutto il materiale da presentare per portarlo poi passo passo, solo per una consulenza pagano circa 300 euro ogni ora. Oggi voglio aprire a due persone a settimana la possibilità di prenotare la mia consulenza per 30 minuti per pianificare insieme e adesso ti spiego che cosa faremo insieme per soli 40 euro per avere una mia consulenza di 30 minuti. Quindi immagina il risparmio e il vantaggio che puoi ottenere già avendo l'esperienza che ti metto a disposizione durante la consulenza. Beh, prima della consulenza studierò e analizzerò per te l'obiettivo che tu vuoi raggiungere. E poi durante la consulenza, nella prima fase ci conosceremo nei primi minuti, poi passeremo subito all'azione. Ti dirò quello che è la mia considerazione su quello che vuoi fare, l'analizzeremo insieme, la valuteremo, creeremo una strategia per l'obiettivo che vuoi raggiungere, ti dirò cosa e come devi farlo e ti dirò anche se ne vale la pena oppure no. Quindi in questo modo tu potrai risparmiare tempo e denaro perché sbagliare una delle fasi, delle aste giudiziarie, ti può portare via non solo tempo ma anche soldi. Una volta fatto tutto questo avrai chiara la mappa di quello che dovrai fare subito dopo la fine della consulenza e saprai esattamente come e in che tempi dovrai farlo. Ti darò la struttura pronta e la faremo insieme, così come già faccio con i miei clienti. Come vedi ci sono alcune delle testimonianze su questa pagina di persone che ricevono le informazioni già da me e mi seguono. Poi ci sono tanti altri clienti che lì fuori al quale ho aiutato decine e decine e decine di imprenditori, liberi professionisti, gente comune ad acquistare e a investire alle aste giudiziarie con risultati eccellenti. Quindi è molto semplice, ti basterà cliccare sul bottone qui sotto e prenotare la tua consulenza. Subito dopo accederai a un modulo che dovrai compilare con tutte quelle che sono le domande a cui dovrai rispondere con il quale io poi potrò analizzare e valutare e lavorare per te. Così durante la consulenza avremo già tutto pronto e insieme stileremo la strategia e tracceremo quello che è il percorso migliore per raggiungere il tuo obiettivo. Molto spesso mi è capitato di vedere imprenditori che quando si sono rivolti a me avevano già percorso in maniera autonoma la partecipazione all'asta giudiziaria e in tantissimi casi facendo dei pessimi affari, in altri casi non concludendo gli affari e perdendo tempo e soldi. Quindi una volta che si sono rivolti a me poi hanno avuto un vantaggio perché investendo quella piccola quantità di denaro hanno risparmiato una grande quantità di denaro e una grande quantità di tempo. E voglio darti un vantaggio, voglio darti un qualcosa che lì fuori difficilmente trovi e cioè 100% gratis. 100% gratis perché se alla fine della consulenza non sarai per qualche motivo soddisfatto beh io ti do la possibilità lì nel momento stesso prima di finire la consulenza di dirmi Alessandro io non sono soddisfatto, non ho ottenuto ciò che volevo, ti basterà dirmelo e io lì in seduta stante ti restituirò fino all'ultimo centesimo della prenotazione che hai già pagato, ti restituirò il 100% quindi hai garanzia 100% di soddisfatto o rimborsato. Non mi farò problemi perché? Perché so quello che faccio e so che ho aiutato tantissime persone ad ottenere i risultati con le aste quindi so di poterti aiutare, di poterti portare esattamente lì dove vuoi arrivare, che sia un investimento che vuoi fare, che sia che vuoi imparare a fare consulenza, che sia per un acquisto che tu vuoi fare all'asta quindi io ti aiuterò a tracciare e ti dirò quello che devi fare ma se non sarai soddisfatto alla fine ti restituirò il 100% quindi adesso ti basterà cliccare sul bottone qui sotto in questa pagina, prenotare se ci sarà disponibilità questa settimana potremmo già metterci d'accordo per la consulenza Skype altrimenti sarà per la settimana dopo o per l'altra settimana dipende da quante persone sono in lista. Quindi io ti aspetto dall'altra parte con questo ti auguro buona giornata e ci vediamo dall'altra parte clicca sul bottone qui sotto, prenota ora questa opportunità di avere una consulenza direttamente con me e ci vediamo dall'altra parte, ciao!